Coding Tramagi Stiamo rendendo più diretto l'accesso alle applicazioni di Tramagi. Verranno inseriti dei simboli sopra le icone delle applicazioni. In questo modo attraverso questi simboli potremo sapere in tempo reale lo stato delle applicazioni e potremo accedere a parti specifiche delle applicazioni stesse. In questo modo potremo avere un accesso più semplice e più diretto alle applicazioni di Tramagi. Questo è un passaggio per la crescita di Tramagi verso la fase 2.